Nell'agenda odierna di Papa Francesco ha trovato posto stamani anche l'udienza con il primo ministro di Grenada, Kate Mitchell, che successivamente ha incontrato il segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, insieme con Monsignor Dominic Manberti, segretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui, rende noto la Sala Stampa Vaticana, ci si è soffermati sulle buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e Grenada, nonché sull'importante apporto della Chiesa Cattolica in campo educativo, sociale e caritativo, di fronte alle sfide del Paese e soprattutto per quanto riguarda la gioventù. Alla riguardo è stata affermata inoltre la necessità di una cooperazione tra tutte le forze sociali in vista della promozione del bene comune e dello sviluppo del Paese.